E' importante che ora si riposi il più possibile e che non abbia altri scossoni. Ed è meglio se ve ne andassi da qui stasera stessa. No, è colpa mia, lascia stare. Non ti avrei dovuto costringere a venire qui. Dilla, che fai? Leggo che sua madre è stata ricoverata. E' affetta da un disturbo ciclotimico bipolare con fasi maniacali acute e violente. Non hai capito la lezione? E poi staremo bene. E avremo una fornita.